I materiali che c'erano all'epoca. Questo è l'ingresso del cimitero adiacente alla chiesa che successivamente al sisma hanno fatto questo orribile puntellamento e hanno fatto un puntellamento contro le tombe, i loculi, ai quali non si può nemmeno accedere perché se qui c'è un funerale, una bara, nemmeno ci passa, cosa che non serviva perché si sarebbe potuto fare in altri modi, una cerchiatura, eccetera. Qui arriviamo alla tomba di mia figlia che purtroppo ho perso successivamente al sisma per una disgrazia e come vedete io non posso vedere una cosa del genere perché mi sembra una violazione, una violenza, tutto questo. E sono buttate a destra e a sinistra. Cioè, ecco qua da lì frammenti da tutte le parti, se sembra giusta una cosa del genere. Questa diciamo era la parte vecchia del cimitero. Grazie.